Ma oggi noi mettiamo in gioco 10 milioni di euro affinché il Teatro Margherita e l'ex mercato del pesce possano tornare non soltanto a essere elementi del decoro urbano ma essere contenitori di cultura, di attrattività turistica, elementi della buona economia perché arriva la ricchezza quando arrivano i viandanti, i viaggiatori, i turisti, i pellegrini nella nostra città. Bari con questa scelta sta completando i cantieri della sua riqualificazione. Ci sono in questo momento i lavori in corso nel Teatro Piccini, la Regione Puglia ha acquistato il Cursal Santa Lucia, il Petruzzelli è nel suo splendore. Credo che immaginare la costruzione di una rete della cultura, dell'arte, di un vero e proprio quadrilatero dei teatri, della rete museale, possa fare veramente di Bari una grande capitale del Mediterraneo.